Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando di quello che è accaduto negli scorsi giorni poi denunciato dai genitori dei piccoli degenti all'interno del reparto di neonatologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Pioggia dal tetto e pannelli che finiscono sul pavimento è quanto denunciato nelle scorse ore dai genitori dei piccoli ricoverati nel reparto di neonatologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, come testimoniano le foto pubblicate dal quotidiano online Arezzo Notizie. Parte della pannellatura del controsoffitto è crollata a terra a pochissima distanza dalle incubatrici. I macchinari vuoti al momento sono stati spostati sul lato della stanza. Il reparto è in sicurezza, risponde subito la ASL Toscana Sud-Est. L'infiltrazione, secondo quanto risposto dall'azienda sanitaria, sarebbe stata causata dalle copiose piogge di questi giorni. Il reparto è provocato danni ad un pannello del controsoffitto, ma i tecnici della manutenzione si sono subito attivati per superare le criticità e già a partire dalle prossime ore è previsto un intervento specifico nel tetto della neonatologia. È importante sottolineare, precisa Letizia Maggi, che dirige il reparto, che i neonati sono sempre stati in sicurezza perché posizionati in una zona non interessata dalle infiltrazioni. Sull'argomento interviene anche il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti. Le difficoltà anche semistrutturali del nostro San Donato, afferma che risulterebbero essersi verificate, mettono in evidenza la necessità di procedere fin da subito al piano di investimenti straordinario che da tempo abbiamo proposto. Parliamo di un altro crollo, ma questo risale addirittura ad un anno fa e in questo caso tutto sta piano piano tornando alla normalità, anche se i lavori all'interno del professionale Marconi, soprattutto nelle quattro aule interessate da problemi strutturali, inizieranno soltanto ad ottobre. Ma c'è una buona notizia per gli studenti. Ad oltre un anno dal crollo di un'aula all'interno dell'Istituto Marconi di San Giovanni Valdarno, tutto sembra stia tornando alla normalità o quasi. Anche l'indirizzo moda, infatti, del caso ce ne eravamo occupati circa due settimane fa, tornerà nella sede di San Giovanni Valdarno. Precedentemente l'ipotesi era che i ragazzi potessero nuovamente iniziare questo anno scolastico nella sede provvisoria del centro pastorale di Montevarchi, con tutti i disagi del caso, ci avevano detto i genitori. È stato durante un incontro che si è tenuto venerdì scorso che la neodirigente Lucia Bacci ha comunicato ai genitori la buona notizia. Gli studenti del indirizzo moda troveranno posto all'interno del Marconi, in aule provvisorie ma in piena sicurezza, in attesa che nel mese di ottobre la provincia di Arezzo faccia partire i lavori per ristrutturare le classi attualmente indisponibili. La dirigente, spiegano i genitori, in una nota ha compreso perfettamente il problema e ha mostrato la volontà assoluta di riportare i ragazzi a San Giovanni Valdarno. Si tratta ovviamente di aule provvisorie, non sarà quindi una collocazione definitiva, per questo ci è stata chiesta la massima disponibilità dei ragazzi e dei docenti. Noi ovviamente abbiamo chiesto una garanzia di sicurezza, concludono i genitori, che ci è stata data, quindi siamo soddisfatti. E siamo alla cronaca, miglionano le condizioni del 21enne, mentre sono sempre gravi quelle della 48enne, rimasti feriti nello scontro avvenuto ieri a Manciano. La donna si trova ricoverata in rianimazione all'ospedale delle Scotte di Siena. I medici, dopo un delicato intervento, si sono riservati la prognosi. Lo scontro era avvenuto lungo la provinciale 25, le due auto per cause in corso di accertamento si erano scontrate frontalmente. C'è grande fermento nel territorio aretino per l'arrivo del principe Alberto II di Monaco. Una o due giorni che il territorio aretino non dimenticherà quella che sta per vivere con la visita del principe Alberto II di Monaco. Il sovrano sarà sabato 14 settembre al Santuario della Verna, mentre il giorno seguente alla Cittadella della Pace di Rondine. Il principe è atteso al Monte Sacro nel pomeriggio, una visita che sarà strettamente privata alla vigilia della Festa delle Stimmate di San Francesco nell'anno centenario. Sarà accolto al suo arrivo dal padre guardiano Fraguido Fineschi. La visita sarà un tour del santuario e dell'archivio storico che custodisce la documentazione del passaggio in questi luoghi della principessa Grace nel 1968 insieme alla figlia Carolina di ritorno da un campeggio estivo nel Casentino. Domenica 15 settembre alle 10 Alberto II di Monaco giungerà a Rondine per l'incontro con i giovani della Warhouse, promotori della campagna Leaders for Peace che ha visto il principato di Monaco tra i sostenitori. A dare il benvenuto al principe a nome dello studentato Adeline, studentessa kosovara di Rondine, un ex studente maliano di Rondine che nel suo paese ha sviluppato un progetto per educare alla pace ed evitare la dispersione scolastica. Il principe terrà un intervento sul tema della costruzione della pace di fronte ai giovani che arrivano a Rondine da tutto il mondo per formarsi come leader e impegnarsi su scala globale nella riduzione dei conflitti armati e nella promozione della pace. Un nuovo sportello di assistenza e consulenza per la tutela della salute ad attivarlo è stato la Federazione Anziani e Pensionati delle Acli che nel mese di settembre ha dato il via ad un progetto in sinergia con l'Associazione Cittadinanza Attiva Tribunale per i Diritti del Malato, finalizzato proprio a fornire le corrette informazioni in ambito socio-sanitario. Il servizio ospitato tra la sede appunto delle Acli in via Guidomonaco e la sede della Fondazione Arezzo Comunità in piazza San Domenico orienterà una particolare attenzione alla tematica delle liste di attesa appunto in sanità. Adesso invece parliamo di lavoro perché va bene il settore ora fu aretino nei primi tre mesi di quest'anno, grazie soprattutto al mercato turco. Continua a brillare il distretto orafo aretino, ancora traino dell'export della provincia ma anche del paese. Il dato delle esportazioni della provincia di Arezzo del secondo trimestre 2024 segna un più 46,1%, confermando il trend di crescita già visto nei primi tre mesi dell'anno e portando il bilancio dei primi sei mesi a più 7 miliardi e mezzo di euro con una variazione percentuale del più 39,8%. Si tratta di un dato fortemente condizionato dall'andamento eccezionale del comparto orafo, sottolinea Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio di Arezzo Siena. Nel 2024 la gioielleria e orificeria è tornata ad essere la prima voce dell'export provinciale, sorpassando il comparto dei metalli preziosi con una crescita eccezionale, più 138% nel secondo trimestre e più 135,8% nell'intero primo semestre, che si è concretizzata in un flusso di prodotti pari a circa 3,9 miliardi di euro nei primi sei mesi. Si tratta di un incremento veramente anomalo che ha origine in un particolare mercato, quello turco, che dalla fine del 2023 ha presentato una vera e propria esplosione. Crescono poi anche gli altri principali mercati di destinazione, Emirati Arabi, Stati Uniti e Francia, con la sola eccezione di Hong Kong. Non solo orificeria però, come evidenzia il segretario generale Marco Randellini. Il grande malato regionale, il settore della moda, commenta, ha mostrato in provincia di Arezzo nel secondo trimestre un minimo segnale di ripresa che va a compensare le perdite registrate ad inizio anno. Partiranno lunedì 16 settembre i lavori di manutenzione straordinaria dell'eli superficie dell'ospedale San Donato di Arezzo. L'intervento interesserà sia il manto di copertura della piazzola che l'impianto elettrico. I lavori avranno una durata di circa 30 giorni. Allora per l'atterraggio e il decollo dei mezzi di soccorso Pegaso verrà utilizzata la piazzola del nucleo volo dei Vigili del Fuoco di Arezzo che si trova in località Molimbianco. E sempre lunedì prossimo 16 settembre partiranno i lavori anche per la nuova rotatoria di Vicio Maggio. Siamo nel comune di Civitella in Valdichiana. Un'opera pubblica strategica attesa da molto dalla popolazione che migliorerà la viabilità in questa frazione. I lavori saranno realizzati grazie all'impegno della CEIA, come sappiamo il colosso che ha sede proprio nel comune di Civitella in Valdichiana e a Vicio Maggio, a scomputo degli oneri di urbanizzazione previsti nel piano attuativo e dovrebbero terminare nel 2025. Non sono invece ancora terminati o perlomeno non ne vediamo davvero la fine i lavori e per questo insomma non sono ancora stati riaperti i giardini dell'Anfiteatro di Arezzo. Adesso parte una raccolta firme. Una petizione per riaprire l'Anfiteatro di Arezzo, firme che saranno poi consegnate al neoministro della cultura Alessandro Giuli, ospite della rassegna Altiscaffali. L'iniziativa è del gruppo consigliare Scelguarezzo e si svolgerà davanti alle entrate di via Margaritone e via Crispi dalle 10 alle 12 di sabato 14 settembre. Un'iniziativa importante, spiegano i consiglieri Donati e Sileno, per restituire agli aretini un angolo di città dall'incredibile valore storico che da troppo tempo non è possibile frequentare e sulla quale vogliamo coinvolgere il ministro Giuli. Il suo appuntamento del 21 settembre in fortezza ad Arezzo è oggi confermato, ma se dovesse saltare faremo in modo di consegnare ugualmente le firme perché la città non può aspettare oltre. Sono infatti ormai chiusi per lavori di manutenzione straordinari alle alberature dopo un crollo, da oltre un anno i cancelli dei giardini dell'Anfiteatro. Restano a data da destinarsi la riapertura del parco dal lato dell'archeologico che si affaccia su via Margaritone che è quella che si apre su via Crispi. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nicola Gratteri tra i protagonisti della seconda edizione di Moonlight Festival. Lo sentiamo ai nostri microfoni. Ci sono migliaia di persone che credono in noi, per migliaia di persone siamo l'ultima spiaggia e quindi la gente si vuole informare. Addirittura questo libro è uscito a novembre 2023, due settimane fa era ancora terzo nella saggistica, quindi la gente è interessata quando si scrivono cose vere, concrete e credibili. Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, tra i protagonisti della seconda edizione del Moonlight Festival. Gratteri è uno dei magistrati più esposti nella lotta contro l'Andrangheta. Sotto il loggiato vasariano in Piazza Grande ha presentato il suo libro Il Grifone, discutendo dei temi affrontati nel testo, mettendo in luce come l'Andrangheta simile al mitologico Grifone unisca tradizioni antiche a strategie moderne, rimanendo un pericolo costante e camaleontico. Il senso di questo libro è quello di aver scritto, di aver pensato e poi scritto dove sarebbero andate le mafie da qui a cinque anni. In realtà quello che abbiamo pensato ad inizio del 2023 è già attuale, già sta accadendo, cioè delle mafie come ad esempio l'Andrangheta o la Camorra, molto attive nel Dark Web in grado di arruolare, di assumere hacker tedeschi e hacker rumeni per fare transazioni finanziarie sofisticate o per fare acquisti nel Dark Web o per estrarre Bitcoin. Noi abbiamo delle aree in Calabria come anche in Campania dove c'è la presenza di siti per l'estrazione della moneta elettronica molto forti, molto intensi, enormi e quindi siamo attenti e preoccupati. E siamo allo sport, ma prima parliamo della sentenza per Guidotti, l'allenatore che come sappiamo ha invaso, ha fatto questa clamorosa invasione di campo per fermare un contropiede avversario e appunto è stato squalificato fino al 25 di ottobre. C'è stata anche una multa per il Subbiano. Sentiamo. Dovrà restare lontano dalla panchina fino al 25 ottobre. All'assio Guidotti, l'allenatore del Subbiano, che la scorsa domenica è entrato in campo e ha steso l'attaccante avversario lanciato a rete in contropiede, alla fine se la cava così con un mese e mezzo di squalifica che vale sei turni del torneo e che gli consentirà dunque ritornare in campo da domenica 27 ottobre. Questa la motivazione del giudice sportivo. A gioco e svolgimento entrava indebitamente in campo con il chiaro intento di interferire con l'azione di un calciatore avversario e nel riuscirvi si rendeva colpevole di condotta gravemente antisportiva. Alla società, il giudice sportivo della Lega Nazionale e Dilettanti della Toscana invece ha combinato una multa di 250 euro per responsabilità oggettiva. Il giudice si è poi riservato di decidere sul ricorso presentato dal Pontassieve sul cui campo si è svolta la partita e che adesso chiede la vittoria a tavolino o quantomeno la ripetizione dell'incontro. Il caso aveva subito sollevato un polverone mediatico diventando virale. Il marino mercato Subiano, sin da subito pur astigmatizzando nel comportamento, aveva smentito l'ipotesi di un possibile esonero del tecnico e condannato la cogna mediatica che si era scatenata sui social. Mentre andiamo in onda, l'Arezzo si gioca davvero un po' il tutto per tutto contro il Legnago o meglio, siamo ancora all'inizio del campionato ovviamente ma dopo le due sconfitte di Pesaro e Pineto adesso ci si attende dagli Amaranto. Davvero una prestazione vera e convincente. L'Arezzo incontra tra l'altro un avversario che in tre giornate ha raccolto zero punti. Vedremo ovviamente come andrà a finire questa partita. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Intanto vi diciamo che il direttivo di orgoglio Amaranto, che come sappiamo detiene l'1% delle quote della società, ha convocato proprio un'assemblea dei soci il prossimo 17 settembre alle 21 nella sede che si trova nella curva sud Lauro Minghelli. Tra i punti previsti all'ordine del giorno ci sono la relazione delle attività svolte, tra cui la festa estiva al Bagnoro, la presentazione dello stato finanziario del comitato e un aggiornamento sulla gestione economica proprio dell'Arezzo. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortesia e attenzione. Arrivederci. Grazie per la cortesia e attenzione. Grazie per la cortesia e attenzione.